Ciao la gente, benvenuti su questo nuovo video aggiornamento Come avete potuto notare non ho potuto pubblicare il video di ieri e il video di oggi Però su TubeTycon ho letto Fai un video col mio gatto Ecco il mio gatto Forello Rubik Bello Saluta tutti? No, no, devi salutare Affanculo tutto Allora, il video non è uscito perché Ci sono stati problemi tecnici Il video di TT Racing, Top Table Racing, eccetera eccetera Viene sospeso per il semplice fatto che lagga Ma non lagga tanto il gioco Lagga quanto, smettila di ridere Lagga tanto il video in sé Ecco Quindi cercherò qualche gioco in particolare Perdonate questa mia assenza momentanea E noi ci vediamo per il prossimo video Direttamente al gioco Ho questa luce che mi sta accecando bestia e boia Ci vediamo al prossimo video Bye Lasciate un like se vi è piaciuto questo aggiornamento E per sopportarmi a rendere felice Per consapevole che voi esistiate alcune volte Bye Bye